Come temuto dalla maggioranza di centrodestra e auspicato dall'opposizione e dalle associazioni ambientaliste, ieri il Governo guidato da Mario Draghi ha deciso di impugnare il Piano Casa, la legge regionale numero 1 del 18 gennaio 2021, disposizioni per il riuso, la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e materia di governo del territorio, misure straordinarie, urgenti e modifiche alle leggi regionali numero 8 del 2015, numero 23 del 1985 e numero 16 del 2017. Il Consiglio dei Ministri ha una nota precisa che l'impugnazione è motivata dal fatto che numerose disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di tutela del paesaggio, in violazione dell'articolo 117 secondo Coma, lettera S della Costituzione, ma anche delle norme fondamentali e delle riforme economico-sociali contenute nella legge urbanistica numero 1150 del 1942 e del testo unico dell'edilizia di cui al DPR 380 del 2001. Ironia della sorte a proporre il provvedimento un ministro di centrodestra, Maria Stella Gelmini, in qualità di titolare dei rapporti con le regioni. Quindi a due mesi dalla sua approvazione, avvenuta in Consiglio regionale con 31 voti favorevoli, 19 contrari e 1 astenuto, il piano casa, che varrà fino al 31 dicembre 2023, potrebbe essere stravolto dall'intervento della Corte Costituzionale. Una norma controversa che ha visto una vera e propria battaglia in Consiglio regionale tra maggioranza e opposizione, ma all'interno dello stesso centrodestra. Tra le novità introdotte, gli incrementi volumetrici fino al 50% per gli alberghi oltre i 300 metri dal mare, mentre viene salvaguardata la fascia costiera, all'interno della quale sono consentite modifiche, riqualificazioni, accubature a zero e solo a beneficio delle strutture ricettive. La legge prevede anche interventi nell'agro con la distinzione tra agricoltori professionisti e ubisti. Ora la palla passa alla consulta che potrebbe cassare singole parti della norma che costringerebbe il Consiglio regionale a riprendere in mano la legge.